State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Oggi parliamo di design, di come costruire al meglio le proprie abitazioni affinché siano le più adatte alle condizioni climatiche in cui ci si trova. E per imparare ci rivolgiamo a chi questo lo fa da prima che gli esseri umani popolassero il pianeta. Ogni primavera milioni di nidi vengono costruiti da migliaia di specie di uccelli in tutto il mondo. E il modo in cui vengono realizzati ci racconta aspetti di una architettura che come spesso accade in natura è tutt'altro che casuale. Da anni questo è oggetto di studio di Silvia Colombo, dottoranda all'Università di Melbourne ed oggi nostra ospite. Ciao Silvia, benvenuta qui su SBS. Ciao a tutti. Quindi le case degli uccelli non sono tutte uguali. Quanti tipi ne esistono? Diciamo che ci sono tre tipi principali che sono i nidi aperti come se fossero delle tazzine. Poi abbiamo dei nidi con un tetto e poi ci sono nidi all'interno di per esempio tronchi di alberi oppure in luoghi artificiali sotto i tetti, nelle nest box o all'interno di altre costruzioni. E all'interno diciamo della stessa specie c'è omogenità o ci sono anche differenze? Ovvero ci sono degli esemplari più abili, più bravi a costruire che magari isolano meglio il loro nido e magari ostentano un po' e lo fanno più grande o sono un po' tutte simili? No, ci sono specie addirittura che individui possono costruire nidi aperti o nidi chiusi. sono piuttosto rare, tipo 1.8% nei passi riformi e poi c'è molta variabilità anche nello stesso tipo di nido, nella stessa specie. Certi uccelli che lo costruiscono un pochino più grande utilizzano diversi materiali, dipende molto anche dalla zona in cui lo costruiscono. Quindi lo personalizzano un po' se si può usare questo termine? Sì, sì, all'interno per esempio per renderlo un pochino più soffice per le uova e per i piccoli possono aggiungere piume di altri uccelli oppure qua in Australia anche il pelo di canguri oppure di pecora, la lana delle pecore se ci sono nella zona quindi sono molto personalizzati addirittura abbiamo trovato anche dei nidi con dei fiori dei fiori secchi, il muschio, sono molto anche carini da vedere esteticamente. Tra la mochetta e la decorazione quindi? Esatto, esatto, sì. Andiamo anche alla parte più tecnica, quali sono le tecniche utilizzate dagli uccelli affinché il nido mantenga una temperatura corretta che ricordiamolo non è tanto legato al comfort come il nostro riscaldamento o l'aria condizionata ma a volte è proprio questione di vita e di morte. Sì perché oltre i 40-41 gradi le uova e i piccoli muoiono per il caldo quindi gli uccelli usano tutte le strategie possibili per mantenere una temperatura ottimale all'interno del nido. Ci sono varie strategie come per esempio appunto i materiali, materiali diversi, per esempio qua in Australia la stagione inizia verso settembre che è l'inizio della primavera e a settembre comunque c'è ancora abbastanza fresco rispetto a gennaio-febbraio che la temperatura è molto più alta quindi anche uno stesso uccello che costruisce più nidi nella stessa stagione all'inizio costruirà un nido con tante piume e tanto pello di canguro rispetto a gennaio-febbraio che è un nido che fa passare per esempio più aria oppure in una zona un po' più coperta per mantenerlo più al fresco. E in uno studio che hai pubblicato assieme ad altri di recente sull'argomento, dovrei dire altre anzi in realtà perché sono tutte quante donne, Iliana Medina, Silvia Colombo, appunto te, Jessica McLaughlin e Claire Taylor, avete studiato i nidi da un museo e non in natura, come mai? Quando ho iniziato il dottorato qua a Melbourne è stato il periodo del Covid quindi non potevo entrare in Australia e quindi abbiamo creato un nuovo capitolo per la mia tesi e per fare questo dato che ero bloccata in Europa ho misurato dei nidi in due musei, uno a Berlino, un museo di scienze naturali di Berlino e uno vicino a Londra. I nidi si mantengono benissimo nei musei perché comunque tutto materiale secco. Credo che il mio nido più vecchio era del 1865, quindi si mantengono molto bene, certo perdono un po' di volume però è tutto minimo la differenza. Sì, abbiamo pubblicato da poco un articolo, mi sono focalizzata su una famiglia di uccelli che nidifica in Sud America e Centro America e abbiamo visto che ci sono vari fattori climatici come per esempio la pioggia, il vento che sono collegati con la tipologia di nido e per esempio la lunghezza del nido, quanto sono spesse le pareti del nido eccetera. Per proteggersi dalle forze della natura il nido cambia e si adatta? Questi uccelli per esempio che nidificano in zone molto piovose nel corso dell'evoluzione hanno creato dei nidi che hanno delle pareti molto più sottili perché altrimenti i nidi si impregnano di acqua e fa fatica, quest'acqua può evaporare, quindi i nidi di questi uccelli sono tutti molto sottili in modo tale da permettere al nido di asciugarsi in poco tempo. Oppure i nidi che sono in zone molto ventose sono un pochino più profondi in modo tale che i piccoli e le uova non caschino dal nido durante raffiche di vento. Questo però immagino che siano comportamenti e tecniche sviluppate in migliaia di anni con la selezione naturale. Ora quali possibilità hanno gli uccelli di reagire per esempio ai cambiamenti climatici che avvengono invece in maniera molto rapida? Molte poche perché alla fine stiamo parlando di incrementi di temperatura notevoli in pochissimo tempo quindi questi animali non sono tanto equipaggiati a modificare completamente la struttura del nido in pochi anni. La stagione per esempio può iniziare prima e quindi vedremo che si sposta sempre prima di settembre e finisce non a febbraio però non possono fare i miracoli ecco quando ci sono 45 gradi all'ombra. Quindi il nido rimane lo stesso semplicemente si inizia a costruire prima? Eh sì ci vuole tanto tempo per passare da un nido aperto a un nido chiuso e viceversa non è in cinque anni che questo può accadere. Non c'è un corso a cui possono andare i poveri uccelli? Io mi ricordo che siamo in collegamento con Silvia Colombo che è dottoranda all'Università di Melbourne ci hai detto prima appunto del COVID che ti ha in qualche modo costretto a studiare i nidi da museo ora invece ti capita di studiare sul campo e c'è qualche incontro particolare che magari hai avuto qui in Australia che ricordi e che ci vuoi raccontare? Per un altro capitolo del mio dottorato io ho passato quattro mesi a Canberra perché appunto abbiamo studiato i nidi di uccelli australiani per esempio non so se il pubblico li conosce o ci sono appassionati di birdwatching Sicuramente! Noi ci siamo focalizzati su Superbe Fairy Ren che sono questi bellissimi uccellini azzurrini che ci sono anche vicino alle città o in città Ripeti il nome scusa? Superbe Fairy Ren Ok In italiano non saprei Né anch'io quindi poi lo cerco e lo scriviamo nel podcast Poi Willy Wagtail che sono questi uccellini molto carini, neri che muovono la coda velocemente Funtail che sono molto simili ai Wagtail e hanno una coda a ventaglio Una volta che i piccoli lasciano il nido quindi non c'è nessun tipo di interazione con gli uccelli abbiamo messo dei piccoli termometri all'interno dei nidi per vedere che temperatura raggiunge il nido nelle giornate più calde E che temperatura hanno raggiunto? È anche 45-46 gradi quindi è abbastanza preoccupante E quindi le uova non possono sopravvivere? No, non sopravvivono Poi il problema è stato per esempio la stagione in cui ho fatto fieldwork che ha piovuto tantissimo era il 2022 primavera 2022 ha piovuto tantissimo e quindi molti piccoli annegati per via della pioggia torrenziale Vogliamo anche però fare una specifica Voi non sfrattate gli uccellini con la famiglia dal nido per studiarli, giusto? Come funziona? No, no, no Proprio all'inizio osserviamo gli uccelli per identificare dove costruiscono il nido perché se c'è anche qualche appassionato appunto di birdwatching che vuole sapere come trovare i nidi all'inizio della stagione inizia a vedere gli uccellini che portano del materiale sempre nello stesso punto quindi vedi questi uccellini con un sacco di foglie nel becco o ramettini o appunto piume di altri uccelli che vanno sempre nella stessa direzione e quindi insomma capiamo che in quel punto stanno costruendo un nido Tutti i giorni monitoriamo gli uccelli e poi quando troviamo il nido lo controlliamo ogni tre giorni, quattro giorni sempre da lontano poi una volta sola controlliamo se le uova sono schiuse poi ricontrolliamo perché comunque sappiamo quanto tempo ci vuole perché i piccoli crescono e poi lasciano il nido e poi quando il nido è vuoto facciamo il nostro esperimento e mettiamo i rilevatori di temperatura e poi proprio alla fine di tutto l'esperimento abbiamo anche preso tutti i nidi dal campo avevamo la licenza eccetera e ho misurato i nidi in laboratorio con la lunghezza, la larghezza tutti i parametri di cui siamo interessati Che cosa hai imparato dagli uccelli? C'è qualcosa che possiamo trarre dal loro comportamento che può essere adattato anche alle nostre vite o in qualche modo suggerisce qualcosa sulla vita umana? Mi ha sempre colpito il fatto delle madri che sono sempre molto protettive nei confronti dei piccoli questa è una cosa che a me ha sempre colpito per esempio quando l'unica volta che controlliamo se ci sono uova nel nido i genitori sono intorno al nido e stanno molto attenti e quindi è una cosa che cerchi di fare tutto il prima possibile perché non vuoi stressare l'animale e quindi è una cosa che a me ha colpito molto ecco non è che prendono e se ne vanno rimangono lì e aspettano che tu te ne vada un po' è anche quello che rende anche noto forse l'uccello più famoso qui in Australia il magpie quando difende come dire con i denti e con le unghie il proprio nido e sappiamo che a volte spaventa anche i passanti esatto e scusa forse è un po' sciocca ma il fatto che ti chiami Colombo ha qualche ruolo in questa scelta di vita? ti ha segnata? io ho fatto la mia tesi magistrale all'università di Pisa sui Colombi a questo punto sono segnata devo continuare con gli uccelli la dottoressa Colombo sui Colombi Silvia quando concluderai il tuo dottorato e cosa ti aspetti e accada subito dopo? allora io dovrei finire a giugno dell'anno prossimo poi credo cercherò un postdoc che diciamo è il lavoro successivo a un dottorato in università è bello perché ci sono questi lavori appunto del postdoc però forse in inglese rende me un competitive quindi non so bene se rimarrò in Australia o meno quindi porti aperti per il momento sì sì non si può fare altro vedremo dai magari ce lo racconterai intanto davvero grazie per essere stata nostra ospite oggi e averci introdotto a questo mondo così affascinante grazie a voi cliccate mi piace condividete commentate seguite SPS Italian su Facebook grazie a tutti